E' una levata di scudi in piena regola come mai era accaduto prima a tutti i circoli del Partito Democratico, Nisseno, il Centro Storico, il Circolo San Luca, il Circolo Libertà. L'associazione Big Ben firmano una nota dura e violentissima che non lascia niente all'immaginazione per rispondere alle esternazioni in conferenza stampa dei due consiglieri ribelli del PD, così ormai li chiamano, Annalisa Peditto e Francesco Dolce, ma non tanto quest'ultimo quanto l'appetito che ha rivestito anche cariche di partito, segretario cittadino e vice-segretario provinciale, si prende una tirata d'odecchie da tutti i compagni che evidenziano come sia stata tra l'altro negativa la sua gestione, l'accusano di non aver mai convocato una direzione cittadina in fase congressuale. Ma queste sono qui squiglie rispetto al resto, l'accusano di essere stata causa di una paventata e non riuscita spaccatura del partito nella vicenda a Ruvolo. A causa della sua mancata autocandidatura, sottolineano nella nota, prima con l'autocandidatura dell'appetito ed immediatamente dopo cercando consenso su altre candidature, queste sì di restaurazione. Presso le segreterie regionali si legge nella nota, presso parlamentari regionali e nazionali, non solo del partito democratico, affinché imponesse rotali soluzioni, ma non ci sono riusciti. E poi ancora giù con il racconto di vicende tutte interne a partito, come la scelta di soggetti che dovevano comporre le liste, una scelta improntata a furbizie e un gretto calcolo elettorale, scrivono. La faletra, infatti, ha messo soltanto quattro candidati, non certamente continuano nella nota né con la volontà di contribuire al successo delle liste democratiche alla vittoria del progetto Alleanza per la Città, condiviso da Polo Civico e Udc. Li chiamano ironicamente alfieri della democrazia corrente alternata. Si è scatenata dunque una guerra in piena regola su numeri percentuali e lezioni di lettura degli stessi. Pare non sia proprio andata giù a tutti i componenti del partito la lettura che il gruppo Faletra ha fatto della rappresentanza. Hanno sempre detto che rappresentano il 40% del partito ed ecco che vengono così smentiti. Anche il continuo a rimendicare della rappresentare il 40% del gruppo consigliare del PD continua a leggere nella nota che rappresenta una lettura faziosa e distorta del risultato elettorale. Sottolinea un atteggiamento da notabili, un disprezzo aristocratico per il ruolo ed il contributo degli altri e l'assenza di una strategia politica volta alla ricerca di convivisione di un progetto politico fondato sul rinnovamento, sulle idee, sui metodi e sulle persone. Ed infine arrivano nell'ultima battaglia quella del capogruppo e scrivono nello specifico «La protesta rispetto all'elezione del capogruppo consigliare è un inedito assoluto o probabilmente una rarità nostrana». Il capogruppo rappresenta, insegnano i rappresentanti dei circoli, ai due dissidenti, il portavoce ed è normalmente eletto all'interno del gruppo dei consiglieri comunali. Il consigliere Angelo Scalia continua la nota, è stato eletto a maggioranza e con questo metodo il richiamo a metodi diversi scadrebbe nella logica spartitoria tanto vituperata dagli improvvisati innovatori. E concludono la nota parlando dell'isolamento di cui tanto si è sentito durante la conferenza stampa di qualche giorno addietro che hanno messo in atto i due dissidenti. Infatti l'isolamento si realizza, spiegano nella nota, per colpa propria e non degli altri quando si vuole imporre la propria volontà, si elude il confronto, non si accettano le decisioni assunte a maggioranza, non si riesce a guardare oltre il ristetto ambito dei propri interessi personali.